Albere di Toscana È uno svuotatasche con lampada, che può trovare la sua collocazione in qualsiasi ambiente della casa, sulla console di un ingresso, su una credenza del soggiorno o anche in camera da letto. Albere di Toscana in due formati, quadrato o rettangolare, e realizzato in diverse finiture. È un complemento utile e molto suggestivo. L'alabastro del diffusore ha la capacità di emanare una luce magica, andando a evidenziare le tipiche venature della pietra. Le forme di diffusore in alabastro rappresentano gli alberi tipici della mia regione. Il pino dei litorali, il cipresso dei famosi viali e l'ulivo, l'arbero che caratterizza le morbide colline della Toscana. È un oggetto bello che fa compagnia.